partitone partitone stasera mi è piaciuto un sacco verona Lazio partita ricca di azioni bella anche gol quindi bella partita bella partita finisce 1 a 1 per 1 a 1 quindi in parità un punto che sicuramente a Verona va bene perché continua il suo periodo di risultati utili consecutivi sicuramente alla Lazio un po' meno aveva l'occasione alla Lazio di essere terza in classifica da sola in questo caso non è così il Verona che invece zitto zitto un punto la Lazio lo strappa ricordiamoci che lo Spezia ha perso quindi un punto ancora in più guadagnato per questo Verona che partita dopo partita sta crescendo sta crescendo molto e se questo il Verona ragazzi ci sono anche dei buoni presupposti per poter ricominciare a sperare in una salvezza una salvezza perché mi è piaciuto tanto cioè il Verona ha creato tanto non che la Lazio sia stata a guardare attenzione però c'è questo nuovo giocatore qua in gongoli come si chiama adesso non mi ricordo il nome però vabbè ci siamo capiti avete capito chi è è un bel giocatore veramente un bel giocatore interessante le azioni pericolose al primo tempo sono quasi tutte sue oltre al gol perché nel primo tempo appunto il primo tiro arriva da lui dove Provedel poi deve praticamente rispingere in modo laterale la palla poi da lì c'è Doig che ragazzi si mangia un gol incredibile Doig che due passi dalla porta tira alta sopra la traversa cosa clamorosa sempre comunque lo stesso giocatore fa un tiro a giro cioè no c'è De Pauli che fa un tiro a giro lui col tacco prova a deviarla no in qualche modo ci prova e anche lì Provedel fa un miracolo assurdo sempre lui che porta palla e la zana gli porta via l'uomo lui si accentra tira e la palla esce fuori di poco comunque ragazzi cioè è stato veramente vivo nelle azioni del Verona la Lazio ha avuto le sue occasioni sicuramente sì la punizione di Milkovi Savic dove la palla esce fuori di poco il tiro di immobile sulla sponda di testa di Milkovi Savic dove poi mobile prova a tirare di prima intenzione non facile palla comunque al di fuori della porta anche Pedro ha avuto un pallone molto interessante filtrante e col mancino la manda alta sopra la traversa e da lì uno come Pedro ti aspetti qualcosa di più infatti qualcosa di più arriva subito dopo ragazzi perché Pedro fa un gol pazzesco molto bella l'azione della Lazio che tanti tocchi di prima tra Luisa Alberto Savic Giaccagni poi la palla arriva Cataldi che lo dà Pedro Pedro la ridà Cataldi Cataldi scucchiaia questo pallone al centro che comunque bene o male raggiunge Pedro ragazzi Pedro in un fazzoletto mette giù questo pallone si gira si gira proprio tirando e trova praticamente quasi l'incrocio dei pali un tiro a giro nel girarsi veramente veramente molto bello il gol ha fatto un golasso e non era neanche facile quindi Pedro sbaglia i gol più semplici ma quelli difficili gli riescono molto molto bene è pazzesco il gol di Pedro è veramente bello 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 e la Lazio va avanti solo 1-0 poco prima appunto dello scadere cioè quando di solito comunque tu prendi il gol prima di andare negli spogliatoi di solito è una mazzata mazzata molto pesante per l'altra squadra invece no invece no perché il Verona poi dagli spogliatoi è tornato su in campo e l'ha voluta tutti i corsi pareggiare l'ha voluta tutti i corsi pareggiare e lo fa subito con questo Lazovic che mette questa palla al centro per il nuovo arrivato non mi ricordo adesso il nome comunque è simile a quello che vi ho detto prima non ve lo ripeto perché magari poi non è quel nome esatto non voglio troppo far figure di M e di testa comunque anticipa Casale anticipa Casale e trova un bel gol subito dopo quel gol ragazzi c'è Lazovic che prende una traversa non attraversa un palo con un tiro a giro stupendo e anche lì comunque Provedel se vogliamo era battuto quindi anche lì il Verona molto molto pericoloso nel finale il Verona ha provato anche a mettere pressione alla Lazio e con Gaic madonna ho visto Provedel che ha stoppato un po' con Gaic e alla fine che dire mamma mia che parata che fortuna più che altro Provedel perché quella palla lì rimane nei piedi ma il dribbling è rischiato è molto rischiato la Lazio nel secondo tempo un po' meno secondo me ha avuto un'occasione se non sbaglio con Zaccagni anche nel finale quel colpo di tacco che poi la palla non entra mamma mia anche se c'è da dire che l'abito poi fischia un fallo penso che possa fischiare il fallo sulla spinta di Marusic sul giocatore che aveva preso comunque il tempo appunto il giocatore della Lazio però quel colpo di tacco di Zaccagni nel finale ragazzi brividi brividi veramente un tipo molto molto sicuro comunque nelle uscite certe palle anche a tagliare cross molto tesi pericolosi della Lazio ma poi alla fine obiettivamente parlando al centro non c'era nessuno non il miglior immobile ancora si vede che deve ancora un po' rodare immobile però per quello che si è visto ragazzi per le occasioni create tutto un pareggio ci può stare anzi vi posso dire che forse sulla carta qualcosina in più il Verona forse anche meritava perché sì le occasioni siamo lì lì però io dal Verona questa reazione qua non me l'aspettavo mi ha stupito questo Verona mi ha stupito e complimenti complimenti perché ripeto se la strada è questa è molto molto buona e ripeto le statistiche non ce le ho qui però più o meno i tiri siamo lì lì però mamma mia bella partita mi è piaciuta molto niente ragazzi fateli sapere un po' voi qui sotto nei commenti cosa ne hai pensato appunto di questa partita qua tra Verona e Lazio e di un po' la vostra lasciato un bel like se comunque il video vi è piaciuto e soprattutto anche se vi fa piacere iscrizione al canale che è importantissimo non costa nulla basta che fate clic su iscriviti se ti iscriviti se costi nulla mi supporto così non solo fatevi ringrazio di cuore condividete il video con i vostri mi sono iscriviti anche loro e attivate la campione di notifiche così non perderemo i prossimi video che usciranno che domani giocherà la Juventus ragazzi qui abbiamo anche tutto link in descrizione anche alla borda di QC Channel e al mio figlio Twitter bella